Il numero 5 è l'osservatore, si trova nella parte bassa dell'enneagramma, è detto osservatore oppure eremita o pensatore. Il suo vizio è l'avarizia, può essere anche un'avarizia di carattere immateriale, ma fondamentalmente si riferisce all'avarizia del dono di sé, non si concede, non frequenta le altre persone, non quantomeno in una maniera che sia emozionalmente coinvolgente. Quindi la sua possibilità di evoluzione è nella virtù della generosità, è necessario che esca e vada nel mondo, che conosca e soprattutto che doni generosamente le sue conoscenze che sono precise e profonde.